Oggi dimentichiamo un incremento delle case popolari, non attraverso la cementificazione e la costruzione, perché già sappiamo che sono migliaia le case vuote in questa città, in questa provincia. Basta cemento, dobbiamo difendere i nostri territori, tanto dalla speculazione quanto dai movimenti razzisti e xenofobi, che vorrebbero metterci gli uni contro gli altri. Oggi dimentichiamo tutto questo, in fronte negli spratti, attraversciamo oratoria. Oggi la periferia va nel centro della città ed esprime tutto il suo essere, non potete fare finta di nulla. Oggi siamo qui in piazza per suggerire al nostro caro amico Gori di scendere dall'Olimpo di Città Alta e continuare a fare quello che faceva strumentalmente in campagna elettorale con la bici, girare nei quartieri. Gori, uno che si definisce di sinistra e ci tiene sempre a sottolinearlo, un rinzialo per eccellenza, che quindi appoggia pienamente e pratica il piano casa. Gori è andato in tutte le teledivisioni a mostrare il suo bel faccino di sinistra, dicendo che lui il problema della casa lo aveva risolto. Ed è notizia di ieri di un'altra casa riqualificata da un cittadino in via Pignolo. Gori, ci sei o ci fai? Continueremo in questa direzione, a lavorare nei quartieri e a lottare per cambiare lo stato di cose presenti. Tirare 400.000 euro per la costruzione di nulla, mentre migliaia di famiglie aspettano le briciole che scendono dai tavoli istituzionali per la morosità incolpevole, mentre non sono presenti sul nostro territorio le case popolari, quando abbiamo liste d'attesa di mille famiglie, mille lucri familiari che aspettano quotidianamente l'assegnazione che non avranno mai. Negli ultimi anni sono state colate quantità di cemento pari a 28.000 campi da calcio, ma nonostante questo le famiglie per velocità incolpevole ancora oggi non hanno una soluzione. Questo complesso, la nostra destra, l'ex Isalpigna, che va ad arricchire l'immoviliare per Cassi, che ha costruito centinaia e centinaia di appartamenti che vende a 3.000 euro al metro quadro e ha lasciato le briciole perché questa la giunta comunale ha deciso alla popolazione 12 appartamenti, 12 appartamenti nuovi. Il comune li vuole vendere per delle briciole, quello che noi vogliamo, quello che pretendiamo in questo suolo, su questa provincia, in cui ci sono migliaia di appartamenti, di privati spitti che diciamo è ora di requisire e di dare alla gente. Vogliamo e pretendiamo una politica abitativa seria, una politica abitativa che metta al centro le famiglie perché per velocità incolpevole si trovano sottratte e si vedono sottratte il diritto ad avere una casa. Questo è un simbolo, ma è uno dei simboli che devastano il nostro territorio per poche dire, per poche dire date i soliti noti, dicela sempre il culo e sempre la popolazione. Noi come studenti, passando molte ore all'interno delle scuole, siamo costantemente a contatto con gli effetti della riforma detta buona scuola. Lo studente si trasforma in semplice merce e non viene più valutato per la sua conoscenza. La scuola non è più un luogo di arricchimento per gli studenti, ma così diventa un'istituzione deviata, volta agli interessi delle grandi aziende. A febbraio è uscita una circolare ministeriale, una circolare del Ministero degli Interni che chiarisce il fatto che agli occupanti, nonostante l'impare che hanno casa, va data la residenza perché la residenza è un diritto. La gente chiede e allora in questo caso gli sfratti li bloccheremo noi e allora in questo caso se voi non requisite le case, le case le requisiremo noi. Incrociare le notte e incrociare le braccia, oggi simbolicamente scambiamo una bandiera di quello che è il percorso nazionale contro gli sfratti, gli sgomberi e i pignoramenti dei movimenti di lotta per la casa con una bandiera di quello che è il movimento per i diritti civili. Vi rompiamo il silenzio, insieme, compatti, rivendicando i nostri diritti per ricordare al sindaco Gori, all'assessore Balesini, all'assessore Angeloni che la lotta per la casa, la lotta per il diritto alla città, la lotta contro gli sfratti e per una moratoria, la lotta per le residenze e le utenze continua giorno dopo giorno, le case non vanno svendute, le case vanno assegnate ed abitate. Dei palazzinari che non fanno altro che speculare sull'uomo e sul territorio sempre più martoriato da grandi opere come la Brevemi e la Tav, grandi opere funzionali solo a chi trae profitto dai nostri soldi, dai soldi pubblici che vengono sperperati per queste inutilità, riteniamo ottimo l'esempio che è stato fatto qua a Bergamo, vorremmo portarlo anche a Treviglio, ci organizzeremo, vedremo di fare il più possibile perché la situazione diventa insostenibile. Contro gli sgomberi a partire dai quartieri popolari e contro gli sfratti che in Lombardia sono sempre di più, ci organizziamo ogni giorno per difenderci, per resistere alla crisi, perché resistere alla crisi è possibile, perché resistere alla crisi è necessario e lo si può fare tutti insieme, perché uniti si vince.